Grazie a tutti. Tu provi a immaginare. Tu sei morta, no? Andai. E ci vedi da lassù, dall'alto dei cieli, e vedi due disgraziati come noi. Ci dai una mano, se no no? Cazzo, ve le do tutte e due le mani. Cuccia uguale. Faccia la dà? Eh, certo. Immagina che era pure di sinistra lui, era uno avanti col cervello. Chi? Questo qui? Era di sinistra? Giuro. Ah, però. Sai come si chiamava la moglie? Come? Idea socialista. Tipico nummignolo di sinistra. Ma quando facevano l'amore, come facevano? Idea socialista? Scusa, eh. Che cazzo di nove è? Dai, porta un po' di rispetto. Se sventoli gli va sulla polvere. E' a Roma, no? Sì. A Roma. Com'è? Bella. Bella. Sì, nel senso che va bene. Va bene. Insomma, funziona? Eh, si vede anche da lontano. No, gli assomiglia alla barra. È una barra, è una barra. Ho capito, ma deve essere quella barra lì, no? È lei, è lei. Dammi la letta. Foto? Una. Una. Questa è la più bella. La lecchi tu? Non, la leur è il de Glasson. C'è meglio. Grazie a tutti.